L'abbiamo vista finalmente, questa è la prima livrea di un'auto di Formula 1 2024 e l'ha presentata a McLaren anche se possiamo dire che è quasi uguale a quella dell'anno scorso infatti il team di walking ha tolto il blu, ha lasciato l'arancione, il colore simbolo di McLaren con le parti in nero carbonio che contribuiranno ad alleggerire il peso della monoposto e possiamo dire che nel complesso il design dell'auto è più pulito e quindi anche più piacevole alla vista il team principal Andrea Stella ha detto che la livrea è bellissima e che quest'anno vogliono iniziare bene infatti nel video di oggi dobbiamo parlare di temi importanti perché McLaren non andrà nella direzione di Red Bull nello sviluppo o almeno questo è quello che ha dichiarato il team principal e lo vediamo con calma in più dobbiamo anche parlare di Mercedes perché ci sono degli aggiornamenti sulla V15 e a fine video vi dico anche una chicca importante su Alfa Tauri che ha lasciato tutti molto perplessi ma prima come vi ho detto prima la MCL38 ovvero la McLaren del 2024 ha un look più aggressivo sia Andrea Stella che Zac Brown e anche i due piloti Norris e Piastri si sono mostrati ottimisti per l'inizio di stagione 2024 hanno presentato questa livrea di stucco, nessuno se lo aspettava, è stato quasi un fulmine a ciel sereno anche perché di solito viene sempre presentata la livrea insieme alla monoposto 2024 durante la presentazione live che tra l'altro seguiremo anche qui sul mio canale invece a sto giro no, hanno deciso di anticipare tutti Andrea Stella ha dichiarato che il 2023 non l'hanno iniziato nella maniera in cui volevano e alla fine hanno lavorato sodo per riorganizzare internamente il team e anche sistemarla a monoposto dal punto di vista aerodinamico nelle prime gare del 2023 hanno detto che la McLaren non era quella che vedevamo in pista ma ce n'era una in cantiere che stava arrivando e sarebbe stata ancora più forte e così si è dimostrata per gran parte a stagione confermandosi seconda forza e quindi vogliono portarsi dietro questo slancio anche per la stagione 2024 prima di continuare voglio farvi commentare a voi le parole di Andrea Stella che ha detto non serve copiare Red Bull per essere veloci ci dà un indizio che McLaren non andrà nella direzione di Red Bull per il suo futuro oppure l'ha detto secondo voi per confondere gli avversari ditemi la vostra su queste dichiarazioni di Andrea Stella sullo sviluppo di McLaren come la vedete per il 2024 ditemi cosa ne pensate del progetto della V15 perché ci arriviamo, ne parliamo dopo, ci sono degli aggiornamenti importanti sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti prima di continuare vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi, attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana vi racconto le notizie a tema automotive e formula 1 dicendovi anche la mia opinione e vi ricordo che mi trovate anche su Instagram per maggiori contenuti a tema auto quindi mi raccomando seguitemi anche lì perché vi avviso sempre quando esce un nuovo video attivate le notifiche perché è fondamentale a voi non costa nulla ma per me fa una grandissima differenza io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video ma prima sigla come vi ho detto anche prima questa McLaren 2024 si è presentata bella, più minimal, più aggressiva nei colori quindi la livrea dal mio punto di vista è approvata certo è molto simile a quella del 2023 però comunque è una versione migliorata di quella dell'anno scorso ma alla fine non ci interessa tanto il colore della monoposto deve andare forte e Andrea Stella ha dichiarato che non serve copiare Red Bull per essere veloci e sicuramente il team di Walking si ritrova in una posizione in partenza migliore rispetto a quella di un anno fa dove vi ricordo che McLaren era partita addirittura non qualificandosi in Q1 in Bahrain qualcosa di clamoroso e l'unica stagione sono riusciti a migliorare tantissimo più di qualsiasi altro team sappiamo che i recenti aggiornamenti del team di Walking includono una nuova galleria del vento un simulatore pienamente operativo e anche nuovo personale tecnico che è arrivato da altri team tra cui Rob Marshall e David Sanchez che viene dalla Ferrari e tutti questi elementi messi insieme uniti al fatto che McLaren parte da una posizione più avanzata ovvero da seconda terza forza sicuramente fanno ben sperare per McLaren per provare a raggiungere Red Bull che è stato anche il loro obiettivo nella scorsa stagione nelle curve lente McLaren era anche superiore a Red Bull infatti nelle piste ad alto carico riusciva ad andare molto forte il team di Walking nelle curve ad ampio raggio con media percorrenza McLaren era fortissima addirittura era superiore a Red Bull di gran lunga superiore a Ferrari faceva più fatica nelle piste più scariche dove accusava ancora un po' di drag e anche nelle piste più tortuose cittadine non spiccava più di tanto insomma come caratteristiche tecniche erano un po' l'opposto di Ferrari per questo era difficile definire con certezza nel 2023 chi era la seconda forza perché alcune volte era Ferrari, altre volte McLaren qualche volta è stata anche Mercedes e a inizio anno ovviamente è stata anche Aston Martin che poi si è spenta nel corso della stagione e ha dichiarato lo stesso Andrea Stella che la MCL38 è sviluppata interamente nella galleria del vento dell'MTC ovvero quella nuova a Walking a partire dal mese di settembre ha confermato che McLaren è in linea con i piani lo sviluppo sta andando in maniera fluida quindi non ci sono intoppi e questo è già buono nella pausa invernale è stato utilizzato anche il nuovo simulatore mentre parti realizzati in materiali compositi sono state prodotte in una nuova infrastruttura dal 2 gennaio si sono uniti anche Rob Marshall e David Sanchez e quindi c'è un certo entusiasmo in McLaren è palpabile e Andrea Stella spera che questi elementi contribuiscano a rendere migliore il futuro del team di Walking a partire da inizio stagione Andrea Stella ha anche aggiunto che il team tecnico è sempre stato composto da tre direttori tecnici uno che lavora sull'aerodinamica ovvero Peter Prodromow uno che lavora sul concetto ovvero David Sanchez e poi uno che lavora sull'ingegneria e il design e il contributo che danno questi tecnici è che sicuramente possono portare idee nuove in McLaren provenienti da altri team ovvero da Red Bull, Ferrari, Mercedes e ciò permette di far confluire diverse idee tecniche che possono poi migliorare lo sviluppo di una determinata monoposto è vero che c'è il periodo di gardening leave ovvero di giardinaggio che è un periodo di transizione in cui un tecnico non può andare subito da una squadra all'altra ma nonostante ciò c'è comunque una minima fuga di informazioni soprattutto nelle stagioni dove c'è una continuità di regolamento tecnico come appunto quella del 2024 anche Andrea Stella ha confermato che i McLaren stanno mettendo le basi per la monoposto 2025 perché stanno sviluppando fino alla presentazione la monoposto 2024 ma dall'altra parte si pensa già all'anno dopo come avevamo detto qualche video fa su Red Bull e in più partirà un ulteriore progetto per la monoposto 2026 con il regolamento nuovo come ha confermato anche Andrea Stella non abbiamo visto una Red Bull sviluppare tanto nel 2023 perché ha deciso di tenere le risorse a disposizione per migliorare la RB19 per il 2024 e quindi rivedremo una RB20 molto competitiva anche quest'anno non dimentichiamocelo in McLaren stanno lavorando tanto su sospensioni, aerodinamica, gestione dei pneumatici, telaio, scocca e tanti altri elementi che vanno a influire sulla prestazione e alla domanda se tutti i team andranno a convergere nell'idea tecnica di Red Bull come concetto aerodinamico Andrea Stella ha smentito ha detto che secondo lui a livello macroscopico si potranno vedere delle differenze sostanziali anche in questo 2024 testuali parole ha detto che non tutto sarà convergente o modellato sulle forme di Red Bull anche perché il miglior campo di pressione dell'aria attorno all'auto può essere ottenuto in diversi modi Red Bull fa sicuramente un ottimo lavoro su questo punto lavorando soprattutto sui dettagli e il lavoro di McLaren come ha confermato Andrea Stella continua sugli sviluppi di Austria e Singapore quindi c'è una continuità rispetto al progetto dell'anno scorso ma Andrea Stella e Zac Brown hanno parlato anche dei propri piloti dicendo che vogliono blindare Norris a McLaren anche perché ci sono state tante speculazioni sul pilota inglese in Red Bull siccome dal 2025 il posto in Red Bull attualmente è libero, vacante perché Perez non ha rinnovato per ora non è un mistero che Horner e Helmut Marko stanno guardando in McLaren per prendere Norris e affiancarlo a Vestappen che secondo Vestappen non sarebbe neanche un pilota scomodo anzi piacerebbe averlo nel team e per McLaren è la priorità quindi di blindare il pilota inglese che l'anno scorso sì ha commesso qualche errore in qualifica di troppo però si è dimostrato il primo pilota con un Piastri al debutto, Ruki che nella prima parte di stagione era leggermente inferiore a Norris ma poi è arrivato quasi alla pari soprattutto in qualifica in gara Piastri deve ancora migliorare sulla gestione delle gomme però siamo lì come livello e questa pressione che sente Norris dal suo compagno in squadra unita al fatto che Norris non ha ancora ottenuto una vittoria in Formula 1 come anche il suo compagno in squadra Ruki potrebbe influire nel fargli pensare di andare in Red Bull per provare a vincere qualche gara e magari chissà in qualche stagione provare a lottare anche per il titolo comunque Norris è un ottimo pilota Zac Brown ha confermato che secondo lui Norris rimarrà in McLaren però sappiamo le profezie di Zac Brown l'abbiamo sentita anche in passato mi ricordo per esempio con il caso di Ricciardo o anche con il caso di Alonso con il caso di Piastri e molto spesso le sue profezie non si sono avverate quindi attenzione a prendere con le pinze queste sue dichiarazioni io se fossi Norris un occhio a Red Bull ce lo darei anche perché sappiamo che è un team che ti garantisce di lottare per la vittoria questo è quello di cui ha bisogno il pilota inglese è vero che accanto c'è un tre volte campione del mondo come Verstappen su cui il team accentra tutta l'attenzione però se Perez è riuscito a ottenere comunque qualche vittoria beh però vedendo le vittorie di Perez considerando il talento di Norris il pilota inglese può conquistare ancora più vittorie e rendere lo spettacolo più interessante bisogna vedere se Red Bull ha bisogno di Norris come pilota oppure vuole cercare un secondo pilota più gestibile come l'ha stato Perez finora e che garantisca però dei risultati concreti certi dall'inizio alla fine io se fossi Norris però nel 2025 andrei in Red Bull detto proprio sinceramente certo McLaren sta migliorando tanto in questi anni e sta tornando a essere un top team costante ma ci vuole ancora un po' di tempo il fatto di avere Piastri in squadra mette ancora più pressione perché il pilota australiano è anche lui al centro del progetto e può essere il pilota di riferimento in futuro per il team di walking quindi Norris è un po' la pedina vagante vedremo dove andrà alcuni parlano addirittura anche di Ferrari anche se non credo ma ora parliamo di Mercedes come procede lo sviluppo sulla V15 la V15 abbiamo detto più volte sarà notevolmente diversa perché a cambiare in primo luogo sono i metodi decisionali infatti sono state apportate delle correzioni alle tecniche di simulazione al CFD ritenute finora errate e James Ellison a Sky Sport UK ha dichiarato com'è la sua visione sul metodo di sviluppo della macchina quasi un'argomentazione filosofica Reagan ha detto che la macchina è solo il risultato finale di un metodo che serve a filtrare le innumerevoli soluzioni che si possono applicare sulla macchina e trovare solo quelle che realmente incidono a migliorare il tempo sul giro le altre vanno scartate qui c'è una metodologia alla base la macchina è solo il risultato di questa scienza e il direttore tecnico James Ellison ha rinnovato il suo contratto in Mercedes dopo che anche Toto Wolff ha annunciato il suo rinnovo questo dà molta stabilità al team di Brackley che ha detto che spera di aver risolto i problemi della scorsa stagione e di aver fatto una monoposto molto più competitiva Toto Wolff ha rinnovato fino alla fine del 2026 così come anche James Ellison ma quindi qual era il problema alla base della V14 e cos'è che hanno corretto per la V15 se sono state corrette le impostazioni aerodinamiche al CFD infatti il modo di fare la mesh al CFD era sbagliato e per questo l'hanno corretto sappiamo che al CFD i volumi d'aria vengono spezzettati in volumi più piccoli in gergo tecnico si dice che questo volume viene discretizzato e il loro insieme costituisce la mesh il sistema di simulazione poi risolve le equazioni di fluido dinamica tuttavia la scelta dei parametri richiede un compromesso e una mesh più fine dà dei risultati più concreti più affidabili ma ci vuole anche più tempo per elaborare queste equazioni e dare risultati concreti quindi bisogna usare più tempo in galleria del vento e anche al CFD tempo che è vincolato dal regolamento sportivo e una simulazione al CFD fatta con una mesh non dà sempre lo stesso risultato i risultati sono molto diversi a seconda della mesh e Mercedes è riuscita a lavorare tanto nell'affinare la mesh del CFD per dare risultati sempre più costanti concreti sulla nuova V15 che è stata modificata quindi nel metodo conseguentemente nelle forme elemento principale che la V15 non vuole avere dall'inizio è il purposing che invece si è rappresentato sulla V14 e sulla V13 e una cosa fondamentale sicuramente l'altezza da terra ma anche il variare dell'altezza da terra a seconda dell'asfalto che sia sotto e dei vari avvallamenti ed è questo quello che soffriva principalmente Mercedes che ha dovuto alzare l'altezza da terra per ovviare al purposing e per cercare di correre in maniera omogenea costante Andrew Shovlin responsabile degli ingegneri di pista in Mercedes aveva spiegato che in passato prima delle vetture effetto suolo bastava determinare come si comportava una macchina con un determinato angolo di rollio di sterzo o determinate altezze e nel farlo catturavi tutto ciò quello che accadeva sulla macchina adesso la macchina cambia costantemente il comportamento perché sviluppa carico dai canali venturi e qui c'è un variare dell'altezza costante che implica diversi studi a diverse altezze anche aggiunto James Ellison che secondo lui le prestazioni con Red Bull tendono a convergere quindi c'è un appiattimento nel miglioramento del team di Milton Keynes che un po' fa ben sperare per Mercedes quindi non ci resta che aspettare e vedere se la Mercedes sarà all'altezza delle aspettative per confermarsi almeno seconda forza e poi provare a raggiungere Red Bull TotWolf dopo aver visto i risultati al simulatore sembrava essere ottimista in questo inizio di anno ma vedremo se la pista confermerà queste sue impressioni parliamo delle ultime due notizie più importanti dalla Spagna è emerso che verrà confermato il Gran Premio di Madrid che debutterà in Formula 1 secondo gli accordi fatti con Stefano Domenicali quindi il gruppo della FOM tra il 2026 e il 2027 con un accordo pluriennale e sarà un circuito semiurbano con un progetto orientato allo spettacolo simile a Singapore e Las Vegas i finanziamenti arrivano da privati si stima un impatto economico di 400 milioni di euro per edizione l'evento di presentazione di questo GP di Madrid sarà il 23 gennaio sappiamo che i circuiti Barcellona hanno accordo con Formula 1 fino al 2026 e quindi è probabile che questo GP di Madrid lasci il posto al Gran Premio di Barcellona e si conferma ancora una volta uno scenario molto triste perché la Formula 1 perde un vero e proprio circuito per dare spazio a un circuito semiurbano cittadino dove una macchina in Formula 1 non può esprimere la massima potenza dove i sorpassi sono anche limitati c'è un asfalto non adatto a quelle vetture e insomma diciamolo chiaramente non è nel DNA del motorsport correre nelle varie città lo stiamo già vedendo nella Formula E ed è una soluzione che a noi tifosi non piace però questa è la direzione che sta seguendo domenicali e la Formula 1 per portare sempre più soldi sempre più pubblico facilmente a guardare le gare di Formula 1 senza doversi allontanare troppo dalle città per andare a vedere le gare questa è l'idea alla base io la vado a contestare perché secondo me la Formula 1 è i circuiti è vedere le macchine correre al limite in piste fatte apposta per loro dove ci sono anche gli spazi che permettono la sicurezza dei piloti cosa che nei circuiti cittadini avviene sempre meno pensiamo per esempio a Jedda insomma io sono contrario ad annettere diversi circuiti cittadini nel calendario però questa è la direzione di Formula 1 e sappiamo finalmente come si chiamerà l'Alfa Tauri nel 2024 si chiamerà Visa Cash App Racing Bulls i primi due nomi derivano dagli sponsor principali del team e Racing Bulls è anche il nome del telaio della monoposto e quindi questo rebranding di Racing Bulls serve per rafforzare il marketing su Red Bull e per allineare sempre di più nella sua direzione Alfa Tauri al team madre spostando sempre di più la sede a Milton Keynes e ribrandizzando tutto il team ditemi nei commenti cosa ne pensate della situazione di McLaren dello sviluppo di Mercedes e anche del GP di Madrid e infine di Alfa Tauri che cambia il nome in Racing Bulls sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti come sempre vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana escono nuovi contenuti a tema automotive e Formula 1 qui da Last è tutto ci vediamo a un prossimo video a a a a a a